Ciao a tutti, io sono Milani e bentornati in questo nuovissimo video. Sono con la mia opera che Pasqua è già passata, però dai, non sono arrivata troppo tardi per fare questo video. Allora, ho deciso di fare un Pasqua Tag, un po' per far riconoscere le mie usanze, diciamo, anche non libresche, perché appunto questo tag non riguarda libri o serie tv, film o quant'altro, sono semplicemente le mie tradizioni durante le feste di Pasqua. Sto leggendo le domande dal computer sul sito Racconti del Passato, quindi potete trovare le domande lì con cui vi dico questo sito, diciamo. Iniziamo subito. Allora, prima domanda. Senti la Pasqua come ricorrenza religiosa oppure ti piace semplicemente il periodo di festa? Allora, io, diciamo un po' e un po', diciamo, perché io sono una persona credente, quindi sì, prima di tutto la vedo come una ricorrenza religiosa e poi anche un periodo di festa, più che altro per essere insieme alla famiglia, perché comunque io ho parenti lontani, quindi durante i periodi di festa ci rincontriamo tutti quanti insieme e quindi anche per questo motivo, diciamo, mi piace la Pasqua. La vedo anche come motivo di festa, di rincontro della famiglia. Seconda domanda. Festeggerai Pasqua oppure festeggi qualche altro tipo di festa in primavera legata alla tua religione? Sissi quale. No, io semplicemente festeggio Pasqua perché sono cristiana e quindi festeggio Pasqua, ecco. Terza domanda. Come pensi che festeggerai Pasqua? Un pranzo di famiglia? Segui il letto di Natale con i tuoi Pasqua o con chi vuoi? Una mini vacanza approfittante del lunedì di Pasquetta, raccontami i tuoi progetti. Allora, essendo Pasqua già passato, ovviamente vi racconto già un fatto. Come dicevo prima, Pasqua per me è l'incontro di famiglia, quindi sì, è stato un pranzo di famiglia, quindi per me sia Natale e Pasqua, pranzo in famiglia, sempre, forever and ever. Quarta domanda. L'unidì di Pasquetta. Relax in casa o gita sui prati con gli amici? Ovviamente con gli amici, ovviamente non ho fatto niente di che perché io non sono una persona a cui piace fare cose grandi o con tanti amici. Semplicemente sono andata con la mia amica in giro così a feste pasquali del paese perché sono anche un po' vecchiarella dentro, ecco diciamocelo. Quinta domanda. Aspetti più l'uovo di Pasqua o la colomba? Ovviamente l'uovo di Pasqua. Stessa domanda. L'uovo di Pasqua? Cioccolato bianco al lato fondente oppure quello della Kinder? Qual è il tuo uovo di Pasqua ideale? Allora, ovviamente al primo posto c'è quello della Kinder. Nessuno mi toglie l'uovo di Pasqua o della Kinder, ragazzi. Se non c'è quello della Kinder preferisco cioccolato al latte oppure fondente e questi diciamo sono i miei standard per l'uovo di Pasqua, però quello di ideale è sicuramente quello Kinder. Settima. Decori la tua casa per Pasqua? Se sì e hai voglia di farci vedere come. No, semplicemente no, non decoro casa per Pasqua, diciamo ci sono solo qualche uova di cioccolato di Pasqua in giro, ma niente di che. Otto. Che sorpresa vorresti trovare il nuovo di Pasqua? Realistica e desiderio. E allora, realistica? Non lo so di laurearmi presto, non lo so. Desiderio? Non saprei. Forse quella di realizzare tutti i miei sogni, quella di diventare un giorno quello che voglio, anche se non ancora so cosa voglio essere nella mia vita, ancora lo devo capire. Comunque, boh, non lo so nemmeno io. Nove. Un'immagine che ti ricorda la Pasqua? Bella domanda, ce ne sono tantissime. Ovviamente a me ricorda molto la Pasqua, prima di tutto la risurrezione di Gesù, perché ricordo, come dicevo prima, che io sono una persona molto credente, quindi quella è la prima cosa che mi ricorda la Pasqua. E poi, ovviamente, uova di Pasqua, colombe, tutte queste cose che caratterizzano la Pasqua, che non c'entri con la religione, perché effettivamente le uova di Pasqua cosa c'entrano con Gesù? Niente. Però, comunque, l'atmosfera pasquale, ecco, come si diceva così. Dieci. Mangiare l'anielo se contrario? Non sono contraria, sono molto pro perché mi piace la carne, però su questo discorso bisogna fare un video a parte, perché ce ne sarebbe tantissimo da dire prima di tutto, e questo video poi ci sarebbe di, tipo, 25.000 anni, e secondo, non credo sia il video adatto per parlare di questo argomento, diciamo. Bene, questo video finisce qui, spero che abbiate passato una buona Pasqua, spero che vi siate divertiti, che avete mangiato tantissimo, nonostante le frasi tipiche dei parenti, che so, tipo, fidanzatino e la laurea e il diploma e il lavoro, quando, vabbè, tutte queste cose che, ovviamente, sono comuni a tutte le famiglie, a tutti i parenti, e spero che questo video vi piaccia, lasciate un like in tal caso, e fatemi sapere nei commenti le vostre risposte e come avete passato Pasqua e Pasquetta, e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, e noi ci vediamo al prossimo, ciao!